Sta diventando un autentico giallo di quelli che in estate si leggono sotto l'ombrellone la vicenda delle targhe prova, ovvero del decreto emanato a dicembre ma entrato in vigore a inizio luglio che stravolge la prassi consolidata. Finora infatti veniva consentito di avere una targa prova per ogni dipendente impegnato nel settore della movimentazione di autoveicoli nuovi. Col nuovo decreto il numero si riduce enormemente visto che viene consentita solo a una targa prova ogni cinque dipendenti. L'entrata in vigore del provvedimento suscitò reazioni di assoluto allarme soprattutto nei porti come Livorno e Civitavecchia che fanno dell'automotive un loro motivo di forza. Sia nel capoluogo labronico che nella nostra realtà portuale venne chiesta una rivisitazione del decreto proprio per evitare che si arrivasse alla perdita di posti di lavoro e al contemporaneo congestionamento delle aree di sosta dove vengono parcheggiati i veicoli prima di essere trasferiti verso le concessionarie. Adesso a distanza di quasi due mesi la stampa di settore parla di problema rinviato con l'entrata in vigore posticipata a novembre per consentire eventuali correttivi che possano andare incontro alle richieste degli operatori e degli stessi enti portuali. Sembra infatti che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una sua nota abbia scritto che la deroga è stata firmata dal direttore generale della motorizzazione competente per il centro Italia. Il problema è che andando sul sito del ministero e su quello specifico della direzione generale per la motorizzazione quella nota non si trova. Peraltro un provvedimento varato solamente per una parte del paese sinceramente desta qualche prepressità. Non sarebbe male quindi se arrivasse un chiarimento ufficiale al riguardo con soddisfazione di tutti.